Con l'approssimarsi della fine dell'anno Biceglie vive tre certezze, l'inutilità del sindaco Angel Antonio Angarano, il Natale e le dimissioni di Nicola Canonico dalla presidenza della squadra di calcio. L'inutilità di Angarano tutto sommato non fa danno, è stato scelto ed eletto proprio per tale peculiarità. Il Natale, anche in periodi di crisi, resta un momento di festosa Letizia. Ad essere diventate una barzelletta che non fa più ridere sono invece le dimissioni di Canonico. Anche quest'anno la tradizione è stata scrupolosamente rispettata, sia con le dimissioni, sia con gli immancabili e in gran parte patetici curi che gli fanno seguito. Canonico questa volta si è dimesso per gli insulti che gli sarebbero stati rivolti da tifosi bicegliesi non riconducibili agli ultras che lo hanno evidenziato in una nota e impegni relativi agli adeguamenti e il manterboso del campo sportivo Ventura che sarebbero stati disattesi. Il primo a rispondergli è stato il sindaco che ha giustificato l'operato dell'amministrazione, invitando commosso Canonico a recedere dalla sua decisione garantendo pieno impegno e sostegno del comune. Poi in perfetta battuta sono intervenuti i dirigenti bicegliesi della società con una lunga mozione degli affetti, poi il nulla. Canonico che aveva già preannunciato silenzio stampa non ha fornito alcuna risposta agli inviti ricevuti. Ora è stata preannunciata proprio dai dirigenti bicegliesi Gianni Casella in testa una conferenza stampa per il prossimo martedì. Non ne sono noti i contenuti ma potrebbero riservare altre decisioni estreme come le loro dimissioni da aggiungere a quelle del presidente. La situazione diventa quindi sempre più delicata, la squadra con 10 punti in 13 partite e terzo ultimo in classifica e i tifosi sono legittimamente preoccupati circa le possibilità di raggiungere una difficile salvezza e mortificati da un gesto che precede uno storico derby con il Bari. Sando così le cose forse è la volta di finirla di inseguire Canonico con il cappello in mano come è avvenuto puntualmente ogni volta che si è dimesso. Anche alla nostra emittente in passato dopo ogni dimissione abbiamo prima registrato interventi di fuoco contro l'imprenditore di Palo del Colle salvo poi con inversioni a 360 gradi ritrovarci le stesse persone con un sorriso a cento denti a braccetto con il presidente che nel frattempo ci aveva ripensato a cominciare da amministratori locali. Ora siccome la dignità dei biscegliesi non si può né si deve offendere Canonico se se ne vuole andare si togliesse davanti una volta per tutte. Che nessuno gli vada più dietro basta con queste pantomime. La squadra sua deve gestirla sino alla fine del torneo. Se ci saranno altri imprenditori pronti a rilevare la società bene diversamente ce ne faremo una ragione. Si farà il calcio che ci si potrà permettere ma senza che una città sia offesa da tira e molla ormai insopportabili. Anche perché non abbiamo dimenticato il tentativo di Canonico di portarsi la squadra a Bari e men che meno lo hanno dimenticato i biscegliesi. Il copione delle passate edizioni prevede ora uno sbracamento del sindaco per fare il salvatore della patria. Bene Angarano dedicati alle processioni ma per piacere non ci salvare. Stati fermo fermo. Canonico facesse quello che vuole.